Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi andremo a rispondere a una domanda un po' particolare I pesci bevono? La risposta è sì, però non bevono come noi, bevono in un altro modo molto più particolare che adesso andrò a spiegarvi Allora i pesci d'acqua dolce bevono attraverso l'osmosi, perciò bevono acqua direttamente dal loro corpo Allora viene da domandarsi, che cos'è l'osmosi? Allora l'osmosi è un processo in cui l'acqua che è in genere il nostro solvente passa da una soluzione Meno concentrata ad una più concentrata In questo caso il corpo del pesce d'acqua dolce è più salato rispetto all'acqua e per questo l'acqua pura passa dall'acqua dell'acquario al suo corpo Senza che il pesce faccia nulla Beh direi che questo è un vero e proprio superpotere, quindi ovviamente non sono uno scienziato Ma ho cercato di spiegarvelo nel modo più semplice possibile Allora mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi Noi ci vediamo alla prossima